Plains Dusty è un aereo che sparge acqua sui campi, ma sogna di vincere il campionato di volo intorno al mondo. Il suo collega, il vecchio biplano Legbottom, non capisce. Perché Dusty vuole andare così lontano? Si sta così bene in campagna? Il piccolo aereo fa di tutto perché il suo sogno si avveri. Quando può, si allena con il suo amico camion Chug. Presto affronterà una gara di qualificazione. Il giorno della prova, Dusty si presenta sulla pista con i suoi due più grandi amici, Chug e Dotti, la sua meccanica di fiducia. Che emozione! Dusty è veloce e si qualifica per il campionato di volo. Ma ha un problema. Sa volare soltanto basso perché soffre di vertigini. Forse c'è qualcuno che può aiutarlo a superare la sua paura. È Skipper, un aereo che non vola più, ma ai suoi tempi era istruttore su una famosa nave portaerei. Skipper fa del suo meglio per allenare Dusty. Quando però il giro del mondo comincia, il piccolo aereo si trova subito all'ultimo posto. Ma non si scoraggia e quando un altro concorrente ha un guasto, Dusty lo aiuta ad atterrare, anche a costo di rimanere indietro. Se sei generoso, gli altri sono felici di darti una mano. E così, Franz, una simpatica automobile volante, aiuta Dusty a diventare più veloce. Franz fa togliere al suo nuovo amico le parti usate per il lavoro in campagna. Adesso Dusty è leggero e vola davanti a tutti. Presto il piccolo aereo diventa la star della gara e questo non va giù a Risplinger, un aereo abituato a vincere sempre. Dusty si impegna, ma continua ad avere paura dell'altezza e a volare vicino alla terra, mentre la gara si fa ancora più dura. Quando poi uno degli assistenti di Risplinger rompe l'antenna radio di Dusty, le cose si mettono male. Non può comunicare con i suoi amici. Il piccolo aereo ora vola senza una guida. Per fortuna, due aerei caccia lo fanno atterrare su una porta aerei. È quella dove lavorava Skipper da giovane. Leggendo il muro delle celebrità della porta aerei Dusty, scopre che Skipper ha volato una sola volta. Perché? Il suo allenatore nasconde un segreto. Dopo aver riparato l'antenna, Dusty riparte. L'oceano è in tempesta e il viaggio di ritorno è un vero incubo, ma l'aereo riesce a tornare dai suoi amici. Poi Skipper finalmente racconta. Durante la sua prima missione aveva perso tutti i suoi allievi. Da allora, per paura, non ha più osato volare. Anche Dusty ha paura di non farcela, ma gli altri concorrenti lo incoraggiano. Dusty è ancora in gara e, anche se Risplinger i suoi fanno di tutto per fermarlo, ha un nuovo alleato. Skipper, che per difenderlo ha ritrovato il coraggio di volare. È un trionfo per Dusty, che è diventato un campione. Sotto gli occhi del pubblico che lo adora, l'aereo di campagna taglia per primo il traguardo. Dusty ha tanti amici da ringraziare. Chug, Dotti, gli aerei conosciuti in gara. E Skipper, che d'ora in poi volerà con lui più in alto delle nuvole. Fine